Ci siamo? No Ok Ok Bene, buonasera Francesco Reppe collegato Per l'ultima domanda E complimenti, congratulazioni E complimenti per questo grande bene Che è regalato a tutto il paese C'è una cosa in più che adesso Una qualità in più che ha questa squadra Sofricere Era quello step che mancava Intanto Saranno cazzi i miei Abbiamo regalato Delle bellissime cagate Qui, qua, la Spagna E adesso Lo stesso Ce l'ho E' veramente durissimo Non abbiamo ancora fatto Un cazzo Yeah Thank you very much Congratulations On making the final Just one question When did you guys start Practicing penalties? Grazie a tutti Grazie a tutti